RINASCITA DEL PALAZZO MORONI Benvenuti a Padova, una città ricca di storia e bellezza, dove il passato si intreccia con il presente in un connubio affascinante. Il Palazzo Moroni, sede storica dell'amministrazione comunale sin dal XIII secolo è stato, nel tempo, oggetto di restauri e modifiche architettoniche, fino a diventare oggi un connubio affascinante di stili che spaziano dal gotico al rinascimentale. Il tempo e l'usura hanno lasciato il loro segno, rendendo necessario un intervento per preservare l'integrità dei pavimenti in legno. In questo straordinario contesto, l'azienda Berti, ha portato avanti un lavoro straordinario di restauro dei pavimenti, unendo maestria artigianale e materiali pregiati. Questo restauro ha riportato alla luce la bellezza nascosta sotto strati di tempo, rispecchiando la dedizione all'eccellenza artigianale della Berti e restituendo lo splendore ai pavimenti in legno originali di Palazzo Moroni, incluso l'ufficio del Sindaco. Vedremo come Berti Pavimenti Legno sia riuscita a catturare ogni dettaglio, ogni sfumatura, garantendo che il nuovo pavimento sia una replica perfetta dell'originale. Attraverso un processo meticoloso e rispettoso della tradizione, ogni tavola di legno è stata trattata con cura e precisione. Un viaggio attraverso la storia, l'arte e la perizia artigianale che vi lascerà senza parole. Le essenze pregiate di acero, noce e ciliegio americano utilizzate per il pavimento in legno a quadrotte rappresentano l'eccellenza artigianale e offrono qualità unica. Una collaborazione che unisce il passato al presente in modo magistrale. Una dimostrazione straordinaria di abilità artigianale e rispetto per la storia. Stretta di mano collaborazione tra tradizione e innovazione. Le essenze pregiate di acero, noce e ciliegio utilizzate per il pavimento in legno a quadrotte rappresentano l'eccellenza artigianale e offrono qualità uniche. L'acero americano, con la sua durevolezza e la luminosità naturale, si unisce al noce europeo, noto per la sua ricchezza cromatica. Il ciliegio, con la sua tonalità calda e avvolgente, completa l'armonia di questo patrimonio rinnovato. Questo restauro ha riportato alla luce la bellezza nascosta sotto strati di tempo, rispecchiando la dedizione all'eccellenza artigianale della Berti e restituendo lo splendore ai pavimenti in legno originali di Palazzo Moroni. Berti Pavimenti Legno ha saputo coniugare la maestria artigianale con le più moderne tecniche di creazione del legno, preservando l'autenticità del Palazzo Moroni. Ogni passo diventa un omaggio alla storia e all'arte. Scopri le collezioni di pavimenti in legno su sito www.berti.com Scopri le collezioni di pavimenti in legno su sito www.berti.com